Prego, sei minuti. Buongiorno, sono Chiara Cipollini, account manager di Hewlett Packer Enterprise. Oggi vi vorrei parlare di questo bellissimo progetto, altamente innovativo, che abbiamo svolto con il nostro cliente MSC Crociere. MSC è un leader nel mercato del cruising, in quanto è la prima compagnia, capitale totalmente privato, attualmente loro hanno già 15 navi da crociera, ma soltanto 3 sono quelle che noi definiamo Smart Ship. Il concetto di Smart Ship è proprio, la sfida è stata quella di portare all'interno di questi giganti del mare un'infrastruttura Enterprise. Il progetto è iniziato circa 3 anni prima del varo di MSC Meraviglia, che è la prima nave Smart Ship. Diciamo che noi abbiamo aiutato, abbiamo iniziato a sviluppare con MSC una serie di use case che hanno portato a questa grande trasformazione digitale nel mondo del cruising. Gli use case principali sono la geolocalizzazione, il wayfinding, il kids finder, la possibilità per esempio di aprire la porta delle cabine con un braccialetto NFC, tutta la domotica che sta all'interno della cabina, quindi la parte di tv interattiva, il telefono piuttosto che l'area condizionata. Tutti questi sono servizi che sono stati, sono resi possibili e che si appoggiano sull'infrastruttura che noi abbiamo messo a bordo. Io non so quanti di voi siano mai stati su una nave da crociera. Personalmente io non c'ero mai stata e la prima volta che mi è capitato sono rimasta abbastanza attonita di fronte alla maestosità di queste navi. È giusto per darvi un'idea della grandezza, ho voluto confrontarla con degli oggetti a cui noi solitamente siamo più abituati, conosciamo meglio, quali un aereo o per esempio la torre di Pisa. Qui vediamo che una nave è lunga più di 300 metri ed è alta quasi 70 metri, quindi come potete capire orientarsi all'interno di queste navi è veramente molto difficile. Il cuore di tutte queste navi, quindi queste smartship, è l'infrastruttura HPE Aruba. Quindi ognuna di queste navi al suo interno ha 16.000 punti di rete, quindi tutti i servizi vitali della nave viaggiano sull'infrastruttura di rete. Sono circa più di 1.000 switch. Di questi switch diciamo che si dividono in parte, sono gli switch di accesso, che sono tutti gli switch e le porte che racchiudono tutti i servizi che stanno all'interno della cabina, quali per esempio il telefono, la tv, l'aria condizionata. E poi ci sono tutti gli switch di distribuzione che collegano invece tutti i device che si trovano in giro per la nave, i POS, i Digital Signage, i Sessi Access Point. Una nave come questa ha più di 700 access point interni ed esterni, e questo per dare una copertura totale su tutta la nave. Il segnale arriva fino al balcone della cabina. Queste infrastrutture collassa in due data center, che si trovano a circa 150 metri gli uni dagli altri, e questi data center sono completamente ridondati. Questo perché? Per fare in modo che al folte di uno dei due, tutta l'infrastruttura e tutti i servizi continuino a funzionare. Questo è proprio perché tutti i servizi vitali della nave viaggiano su questa infrastruttura. Su questa infrastruttura si basa anche il servizio molto innovativo che abbiamo sviluppato con MSC, che è il servizio di geolocalizzazione. In questo caso si chiama Location Based Services, è un po' come il GPS della vostra macchina. In questo caso l'abbiamo portato su una nave. Come vi ho detto prima, trovarsi e capire dove si è all'interno di queste navi è molto difficile. Quindi ogni volta quando salite su una nave, scaricate l'app che è MSC4Me sul vostro device e all'interno di quest'app voi riuscite a capire in temporale dove siete, c'è il cosiddetto blue dot che è il puntino blu, e riuscite anche a navigare verso i punti di interesse che vi più interessano, dove voi volete andare in quel momento. Quindi la vostra cabina, i ristoranti, i bar, gli shops. Il secondo servizio interessante che si collega a questo è la parte di Kids Finder. È molto importante per le famiglie con bambini, è la possibilità per il genitore di vedere in temporale dove si trova il bambino all'interno della nave. Ogni bambino viene dotato di un braccialetto bluetooth e quindi il genitore, sempre attraverso l'app sul proprio device, riesce a capire dove si trova il bambino in quel momento. E il terzo servizio che si poggia sempre su questa infrastruttura è la parte di push notification. Quindi la possibilità, ovviamente questa gestita dal marketing del cliente, di lanciare messaggi marketing ad un cliente, ad un passeggero, quando si avvicina o si allontana da dei punti di interesse. Tutta questa infrastruttura si basa, oltre alla componente dell'infrastruttura wireless, sulla parte di beacon, ci sono su una nave come questa più di 3500 beacon bluetooth. Non ci fermiamo qui, ma stiamo andando sempre più avanti e quindi l'infrastruttura HPE sarà anche la base del prossimo servizio innovativo che verrà lanciato, che è il digital concierge, ovvero un assistente virtuale che ci sarà a bordo, in ogni cabina, e che è un po' come il Siri che voi avete sull'iPhone, oppure l'Alexa di Amazon, ha le stesse funzionalità. Spero in questa breve presentazione di avervi fatto un po' incuriosire e, perché no, magari rivederci a bordo di una di queste bellissime navi. Grazie Chiara.